om shanti il potere del silenzio un terzo proseguo nel mondo costruiscono armi sempre più sofisticate e potenti ma la vera bomba è il silenzio quando è sperimentato e lanciato nell'atmosfera crea un desiderio di pace crea un risveglio spirituale trasforma sia l'uomo che la natura il pensiero questo mondo così non funziona porta lo sguardo della gente verso l'alto come se la soluzione e il sostegno venissero dall'alto se siete stabili nei sentimenti di amore e benevolenza questi stessi sentimenti emergeranno negli altri perché il silenzio comunica verità e porta un messaggio a destinazione come una candela accende un'altra candela il potere del silenzio accende la consapevolezza negli altri quindi oggi la pratica di questo potere del silenzio e della sua dolcezza dietro alle parole e di volta in volta fermatevi dall'agire per un minuto un minuto di pausa silenziosa allora la mente vi dirà grazie om shanti